Vescocia! 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 Vesco E proprio oggi Monti, il presidente del consiglio più filo tedesco degli ultimi anni è in America e aprirà il G8, spiegherà quali sono le ricette contro la crisi, spiegherà al mondo come uscire dalla crisi Monti, ma noi lo sappiamo come vuole uscire dalla crisi Monti, come la Merkel, con l'austerità, il toglio dei salari, il toglio dei diritti, la distruzione del welfare, questa è l'Europa di Merkel e Monti, questa è l'Europa dell'Asteroma Bellino!